18 giugno 2014 ci troviamo i giardinetti di via dell'ausieres ancora una volta il degrado in questi giardinetti come si può notare guardate pure la cacca altrettanto vedete un degrado che fa paura e questi giardinetti devi sollecitare per far sempre venire a pulire come altri a giardinetti anche di piazza poli di piazza cassano come si può notare parlano le immagini questo di un mucchietto di terreno che sta da mesi come si può notare l'edicola ancora in civiltà e degrado continua sulla città di portici e quindi si può notare facciamo le battaglie portoghese segnalerà tutto già segnalato anche per iscritto in passato e sempre portoghese per la città per il popolo grazie a tutti